Il Milan è già a Bergamo, è arrivato questa mattina, io partirò più tardi, voglio essere presto a Bergamo, grande atmosfera, grande tifo bergamasco, grande tifo della curva del Milan che torna vicino ai ragazzi dopo la bellissima trasferta indimenticabile a Reggio Emilia dove il Milan poi tornerà fra una decina di giorni per la partita di campionato, sempre contro il Sassuolo. Ma parliamo del match di Bergamo, il Milan lo affronterà con Mignan, come detto di più volte, Calabria, Teo Hernandez sulle fasce, Tomori Calulu, centrali, Benassert, Tonali che torna e a proposito ci sono voci questa mattina dal Corriere della Sera che parlano di un adeguamento per Tonali che prende in questo momento 1-2, potrebbe salire a 2-7, ovviamente diciamo cifra e contratto consono alle sue qualità, al suo attaccamento, alla sua proiezione di grande giocatore del Milan. Messias a destra, a destra, Leao a sinistra, Diaz centrale davanti i Redici. Non cambia Pioli, ne abbiamo già parlato più volte anche nel video di questa mattina, non vi voglio tediare, ma indubbiamente il Milan va ad affrontare conscio della propria forza, di un bel mese di amichevoli, di una buona, eccellente partita, non straordinaria contro l'Udinese. In questo senso vogliamo vedere dei miglioramenti a centrocampo dove l'assenza di Tonali e di che sì, ma quella sarà un'assenza che si protrarrà nel tempo, porterà ovviamente dei problemi che il Milan spera di risolvere con gli acquisti e poi parleremo di mercato. Per quello che riguarda poi Tonali certamente darà più equilibrio e soprattutto più forza a un centrocampo che ha un po' sofferto, pur con la forza di Krunic, però meno bravo a eventualmente riproporre l'azione in avanti. Quindi questa è la vigilia, le sensazioni della vigilia, emozionato per il ritorno in trasferta. Voglio rivivere le emozioni delle mie trasferte a Sassuolo, a Verona, a Roma con la Lazio, le ultime trasferte che mi hanno regalato emozioni intensissime. Ma dobbiamo parlare ancora di mercato. Ho accennato per quello che riguarda non le questioni campo il discorso di Tonali, però adesso si apre un altro problema, perché se il Milan, come sembra, si è intenzionato a discutere con il Galatasaray della cessione di Ballotouré e l'entourage di Ballotouré è propenso ad accettare, a discutere la cessione del suo giocatore dal Milan, dove in effetti gioca non molto, gioca abbastanza poco, al Galatasaray. Quindi mi sembra che ci sono già due, le due parti abbastanza d'accordo, anzi tre. Il Galatasaray che sembra che lo voglia, Ballotouré che vorrebbe andare, l'entourage di Ballotouré che è convinto di questa scelta, cioè della sua scelta di andare in Turchia, a Istanbul. E allora? E allora succede che il Milan non debba in dieci giorni prendere solo due giocatori, che sono già tanti, ma dovrebbe prenderne addirittura tre. Chiaro che trovare un giocatore che possa sostituire Ballotouré, che ho parlato oggi con un mio collega considera scarso, io invece non lo considero scarso. Trovo che a 4 milioni, 5 milioni, non so se il Milan sarà capace di trovare uno migliore. Ma ci possono essere anche soluzioni differenti, possono esserci dei prestiti, possono esserci degli esuberi e quindi il Milan dovrà lavorare come sta lavorando per prestiti ed esuberi per il difensore centrale e per il centrocampista anche per quello che riguarda il giocatore di fascia sinistra. Ballotouré è un giocatore che ha dato un buon... secondo me, ripeto, non è scarso, anche perché per giudicare un giocatore non basta una partita, mezza partita, bisogna guardarlo anche in continuità. Non ci sono giocatori che fanno fatica a entrare, essere subito pronti, serve qualche partita per rodarsi, per trovare la giusta carburazione, per trovare il giusto piede, per trovare il giusto affiatamento con i compagni. Il calcio non è aritmetica, per cui tu entri e fai bene ed è sempre automatico così. Quindi Ballotouré è un giocatore che se rimanesse sarei contento. Il Milan fa le sue valutazioni anche perché c'è la questione che... Signori, il Milan ha 21 stranieri, devono esserci in lista 17 in Champions. Calcolando l'Azetic lo lasciamo a parte, poi forse potrebbe essere messo negli under, non lo so, lasciamo stare. Il Milan ha tre stranieri, ha 20 stranieri e quindi compreso Baccaio Co, compreso Ballotouré e compresi gli altri. Queste forse le ragioni per le quali si è deciso di iniziare una trattativa o perlomeno di ascoltare chi richieda Ballotouré. Quindi questa è la situazione. Ma oggi è nato, ecco il titolo del video, un altro nome per il centrocampo. Anzi, ci sono due cose nuove di questa mattina. Prima un sito danese che dice che il Milan si è andato a sei e mezzo per Oniedica. A me ieri è stato detto che ormai è un po' lontana proprio per questioni economiche. Non so, non ho avuto conferme circa un rilancio del Milan per Oniedica che poi viene ritenuto un giocatore interessante, un giocatore certamente di buon livello ma non un crack incredibile. Quindi un giocatore da seguire, da coltivare. Però il Mithiland o si decide ad accettare le richieste del Milan ma visto il valore del giocatore ci sono altri giocatori di questo valore in giro probabilmente. Quindi il Mithiland che poi deve scegliere l'allenatore, il Milan non può stare ad aspettare la scelta dell'allenatore ed altri ostacoli su una trattativa. Quindi per quello che riguarda Oniedica lo teniamo vivo, non vivissimo e poi vedremo l'evoluzione dei prossimi giorni. Quindi oltre che Ballotouré e vediamo chi potrebbe essere la scelta se il Milan poi. Penso che prima di cedere Ballotouré il Milan si sia già mosso per capire una rapida alternativa. Perché il 27 si parte con la bagarre dal 27 al 21 di settembre, si gioca sempre. Quindi la rosa deve essere probabilmente già completata in questa settimana. Io credo che... Ecco mi dicono adesso, stavo leggendo mentre parlavo con voi, che il Sembrache riguardo a Oniedica vi ho parlato di questo rilancio ma sempre che ci sia stato, ma sia stato rifiutato ancora dal club del Mithiland. A maggior ragione ve l'ho detto in tempo reale come se fossimo live, ma live ho ricevuto questa notizia. Quindi quando vi dicevo che è sempre un po' più lontana la possibilità di Oniedica ecco che viene confermata dalla fermezza di un club ricco come il Mithiland di accettare le proposte del Milan, di non accettare le proposte del Milan, di avere la sua idea per quello che riguarda l'offerta e chiuderla lì. E quindi ribadiamo che Oniedica non è così vicino a Milan. Ma veniamo, come dicevo, al titolo. Pensate, io l'avevo detto, avevo detto questo nome, me l'ha ricordato il mio amico Simone Cristallo di Radio Rossonera, in pieno lockdown, questo momento grigio, nero della nostra vita e avevo saputo, era il 28 marzo del 2020, ma non lo dico, attenzione, per vantarmi, ma per dire un caso, un caso perché non è che sono passati due anni e mezzo, quasi. Avevo già parlato di questo nome il 28 marzo 2020, di questo nome il nome è Aster Vrancs. Aster Vrancs è un altro giocatore belga, è a 19 anni, è un giocatore centrocampista, ovviamente parliamo sempre di centrocampisti, di origine congolese, giocatore forte, giocatore robusto, giocatore che può garantire certamente le necessarie qualità e avendo queste caratteristiche nel centrocampo del Milan, gioca oggi nel Wolfsburg, io quando l'avevo detto giocavo ancora nel Malin, mi avevano detto che poteva essere uno dei giocatori giovani da seguire di questo vivaio belga che è un vivaio vivissimo, un vivaio vivacissimo, un vivaio ricco di giocatori interessanti. Oggi gioca nel Wolfsburg, il costo è intorno ai 10 milioni, ma uno potrebbe chiedersi ma perché il Milan se ha 10 milioni non dà qualcosa in più di ogni dica? No, l'abbiamo capito come funzionano i meccanismi mentali dei dirigenti rossoneri. Loro potrebbero anche spenderne 70 se ritengono difficile che ci sia un giocatore, avete visto con De Chetelare, sono andati a anche un po' di più di quello che ritenevano ma era un giocatore fondamentale. Quando invece ritengono che sia fuori mercato per esempio la richiesta di 9-10 per ogni dica non gli danno questa cifra voluta dal club del giocatore. Mentre magari, dico magari, per Aster Franks lo ritengono un giocatore da 10-12 milioni e allora investono 10-12 milioni. Quindi non è questione solo di avere il denaro, è questione di riflettere su una trattativa e di valutare quanto il valore del giocatore. Ecco perché Aster Franks, ma veniamo Aster Franks. A me hanno detto di non scartarlo, quindi di tenerlo caldo, quindi signori è un nome caldo. Qualcun altro mi ha detto che non è proprio il nome giusto perché c'è un altro centrocampista molto importante che costa, o meglio più importante che costa un po' di più, quindi anche lì sono sempre abbastanza combattuto. Ma Aster Franks mi hanno detto di non scartarlo, quindi è un nome caldo. Mi parlano sempre di Onana del Bordeaux, a me di Onana del Bordeaux non me l'hanno mai caldeggiato tanto, quindi aspetto un attimo a valutare questo nome. Quindi Onana è un giocatore che vale sempre come eventuale possibilità, ma non lo metto certamente fra i giocatori prioritari nelle scelte di Richie Massara e di Paolo Maldini. Oggi appuntamento a Bergamo, 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 Atalanta-Milan. Grande emozione, la sciarpa è pronta, il cappellino è pronto, il cuore è pronto, la mente è pronta e allora forza lotta vincerai. Anche oggi non ti lasceremo mai. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like, iscrivetevi al canale di tutto di Carlo Pellegati e attivate la campanella.